Era un appassionato di calcio che aveva praticato a buoni livelli e un sacerdote illuminato, molto attento ai problemi dei giovani. La figura di Don Paolo De Grandi, parroco di Campolucci, scomparso nel luglio di otto anni fa, sarà ricordata con una doppia iniziativa, un torneo di calcio a 5 sui campi dell'Olmoponte e un convegno all'hotel Minerva, al quale seguirà un momento conviviale. Al torneo parteciperanno ex giocatori del Verona, la selezione parroci della diocesi di Arezzo, la squadra della gendarmeria del Vaticano, gli amici di Don Paolo, la selezione sacerdoti calcio e i giovani all-star di Arezzo. Don Paolo De Grandi, che era il nostro cappellano della Polizia di Stato qui alla questura di Arezzo e inoltre era anche il parroco della chiesa dei Santi Paolo e Pietro di Campolucci, dove lui ha creato con la sua forza una serie di campi da calcio proprio per dare forza ai ragazzi che non avevano nulla. Sono stati molti coloro che hanno permesso la realizzazione di questo evento? Certamente, perché comunque è un evento che coinvolge molte persone, quindi i costi ci sono, però come mi succede molto spesso quando gli amici della Polizia mi hanno interpellato per dare una mano per organizzare questa manifestazione importante, i nostri sponsor sono stati ben lieti di seguirci come sempre.